Chiedo a tutte le parrocchie e comunità cattoliche di dedicare una preghiera speciale in questo fine settimana ai cristiani iracheni. E' il tweet lanciato questa mattina dal profilo ufficiale di Pop Francesco che proprio ieri, alla luce della grave situazione in Iraq, ha nominato il cardinal Fernando Filoni, prefetto della congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, suo inviato personale per esprimere la sua vicinanza spirituale alle popolazioni che soffrono e portare loro la solidarietà della Chiesa. Intanto Papa Francesco tenta di andare oltre l'emergenza promuovendo un incontro personale con tutti i nunzi del Medio Oriente e il progetto cui sta lavorando la Segreteria di Stato e che dovrebbe tenersi in settembre. Lo ha detto il portavoce del Vaticano, padre Federico Lombardi, che ha spiegato e allo studio un progetto di incontro qui a Roma tra nunzi della regione e il Santo Padre per studiare la situazione, scambiare idee e possibili iniziative e manifestare anche in questo modo la vicinanza del Papa e della Chiesa Universale ai problemi che sono in corso. Questo tipo di incontro probabilmente avrà luogo a settembre. Intanto la Caritas Italiana rilancia l'appello del Cardinale Angelo Bagnasco per i 100.000 cristiani in fuga dalle città del nord iracheno a causa dell'avanzata degli estremisti islamici. Intanto la Caritas Italiana rilancia l'appello del Cardinale Angelo Bagnasco per i 100.000 cristiani in fuga dalle città del nord iracheno a causa dell'avanzata degli estremisti islamici. Ringrazia le Caritas diocesane per gli sforzi in atto sul fronte dell'accoglienza profughi e le invita a prepararsi alla solidarietà anche nei confronti di queste nuove persone in arrivo. In Iraq si ricorda in una nota la Caritas è in costante contatto nei luoghi di accoglienza per assistere fino a 300.000 famiglie sfollate, circa un milione e mezzo di persone. Caritas Libano inoltre ha iniziato ad accogliere il fiume di famiglie cristiane irachene che stanno scappando da Mosul e raggiungono familiari e amici che vivono nel paese e che si aggiungono ai già tantissimi profughi siriani presenti. In Turchia, riferisce infine alla Caritas, molte sono le famiglie che stanno raggiungendo il territorio turco per ricongiungersi con familiari e amici che già vivono in Turchia. La politica di accoglienza delle autorità turche e la relativa sicurezza del paese stanno favorendo l'ingresso di un numero sempre maggiore di rifugiati. Caritas a Turchia sta assistendo queste famiglie sia al confine con l'Iraq che ad Istanbul.